In questo video vedremo come sorprendere l'avversario in apertura derivante dal gambetto Black Mardimer e inoltre ho un quiz per voi alla fine del video. Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Andiamo subito a vedere come sorprendere l'avversario in apertura con il gambetto Black Mardimer. D4, D5, E4, apertura conosciuta come gambetto Black Mardimer, D per E4, cavallo C3 per attaccare il pedone in E4, il nero risponde con una mossa molto naturale che è cavallo F6 per difendere il pedone e il bianco gioca F3. Decide di dare un pedone di vantaggio al nero per avere una maggiore attività dei propri pezzi. Il nero risponde quasi sempre con pedone per F3 e qui il bianco di solito cattura di cavallo, o almeno questa è la variante principale. Esiste però anche la mossa donna per F3, dove il bianco decide di sacrificare un altro pedone. Questo prende il nome di Gambetto Rider. Il bianco decide di sacrificare in tutto due pedoni per cercare di attivare velocemente i propri pezzi e cercare di dare scacco matto. Qui il nero cattura il pedone in D4 e il bianco risponde con alfiere F3, mettendo pressione sulla donna e cercando di arroccare velocemente. In questa posizione la maggior parte delle persone tende a giocare donna B4. A prima vista sembrerebbe una mossa molto logica, la donna va ad attaccare il pedone in B2 e inoltre il nero prepara alfiere G4. Qui il bianco gioca. La mossa che dovete giocare in questa posizione non è molto naturale, ma è una mossa molto forte che è arrocco lungo. Quindi non dobbiamo aver paura dell'infilata in G4. Infatti dopo alfiere G4 qui abbiamo una super mossa che è cavallo B5. Quindi lasciamo la donna in presa e cerchiamo di mettere subito pressione sulla casa C7. Infatti dopo alfiere per F3 segue cavallo per C7 scacco matto in appena 9 mosse. Come vedete questa variante è veramente incredibile. Dopo cavallo B5 chiaramente il nero potrebbe vedere la minaccia di matto e reagire in altri modi. Vediamo alcune mosse. Se il nero dovesse giocare 5, qui seguirebbe cavallo per C7, dopo Re7 forzata, donna per B7. Mettiamo la donna in presa, ma ovviamente dopo donna per B7 segue uno scacco matto spettacolare. Con alfiere C5, bellissimo. Allora ritorniamo dopo cavallo B5 che ha altre possibilità a il nero per difendersi. Una potrebbe essere quella di catturare il cavallo con la donna, dato che attacca anche la nostra donna in F3. Ma segue alfiere per B5 scacco e l'unica mossa logica per il nero qui è C6, alla quale rispondiamo con donna G3, salviamo la donna. E di nuovo qui abbiamo partita vinta. Dopo cavallo B5 vediamo ancora altre varianti. La più logica sembrerebbe cavallo A6 per difendere la casa C7, altrimenti arriva a scacco matto in una mossa. E qui il bianco continua con donna per B7, mettendo pressione sulla torre e sul cavallo in A6. Ora il nero ha vari modi per rispondere a donna per B7. Uno è giocare torre B8 e qui abbiamo scacco matto in due mosse, dopo donna per torre scacco, cavallo per donna e cavallo per C7, scacco matto. Quindi dopo donna per B7 il nero potrebbe anche provare torre C8 per difendere ulteriormente la casa C7. Ma in questo caso catturiamo semplicemente il cavallo in A6 e dopo alfiere per D1, donna per C8, scacco matto. Quindi dopo donna per B7 il bianco potrebbe anche decidere di giocare alfiere per D1, guadagnando momentaneamente la torre. Ma nemmeno questo funziona poiché dopo donna per torre, re D7 forzata, cavallo per A7. Come vedete minacciamo l'alfiere in D1 e minacciamo il cavallo in A6 con un grosso vantaggio. Dopo donna per B7 esiste un'altra possibilità da parte del nero, ovvero quella di giocare donna E4. Con donna E4 va a difendere momentaneamente la torre. Noi rispondiamo con donna per A6, guadagnando il cavallo. E qui il nero ha almeno due possibilità. Una di queste è giocare alfiere per D1, guadagnando la torre. Qui rispondiamo con re per D1 e dopo torre D8 il nero prova a impostare un attacco. Ma rispondiamo semplicemente con alfiere D2 e minacciamo cavallo per C7. Anche in questo caso il bianco ha un ottimo vantaggio. Quindi dopo donna per cavallo, un'altra possibilità da parte del nero è quella di catturare l'alfiere in E3. A cui segue re B1, donna C5 per difendere il pedone in C7. Qui rispondiamo con donna B7 attaccando la torre. E ora di nuovo il nero ha varie possibilità. Una di queste è catturare la nostra torre in D1 con l'alfiere, ma segue donna per torre scacco, re D7. Qui dobbiamo stare attenti alla minaccia di matto in C2, poi in C1. Quindi giochiamo cavallo C3 attaccando l'alfiere con un grosso vantaggio. Dopo donna B7 il nero potrebbe anche continuare giocando torre C8, salvando la torre. Dato che è difesa dall'alfiere difendendo la casa C7, a cui segue cavallo per A7. E dopo ad esempio alfiere F5 con minaccia di matto in C2. Qui giochiamo alfiere B5 scacco e il nero deve stare di nuovo molto attento. Infatti se dovesse giocare alfiere D7 ad esempio seguirebbe scacco matto in una mossa dopo donna per C8. E se dovesse giocare cavallo per D7 seguirebbe lo stesso scacco matto in una mossa dopo donna per torre. Quindi dopo alfiere B5 scacco l'unica possibilità da parte del nero è quella di giocare C6. Ma anche in questo caso abbiamo un ottimo gioco dopo alfiere A4. Andiamo a difendere il pedone in C2, continuiamo a mettere pressione alla torre sia con il cavallo che con la donna. E più che altro mettiamo pressione alla casa C6. Come vedete questa apertura è veramente devastante. In particolare se il nero dovesse proprio rientrare in questa variante con donna B4. Detto ciò il miglior modo di giocare per il nero in questa posizione è quello di giocare donna G4. Non è per niente una mossa semplice quindi il nero deve per forza aver già studiato questa apertura per poterla fare. Il bianco risponde con donna F2 e dopo E5 gioca cavallo F3. A gioco corretto in questa posizione il nero è in vantaggio quindi dovrebbe riuscire a vincere se dovesse giocare tutte le mosse migliori. Ma comunque la partita è tutta ancora da giocare. Spero che questa variante vi sia piaciuta e che la proverete almeno una volta quando giocherete a scacchi. Vi ricordo di lasciare like a questo video e di iscrivervi al canale. E ora passiamo al quiz. Questa è la posizione. Questo quiz è ovviamente molto famoso però magari non tutti lo conoscono. In pratica il bianco deve dare scacco matto in due mosse. Chiedo a chi già lo conosce di non scrivere niente nei commenti e di lasciare scrivere solo chi non conosce questo puzzle. E quindi di far riflettere le persone e dare la soluzione. Aspetto quindi nei commenti la soluzione a questa tattica. Grazie a tutti per la visione di questo video. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.